I rinvisi susseguono, i forzisti locali non hanno ancora sciolto il nodo dell'eventuale seconda presenza in giunta. Il gruppo cittadino di Forza Italia sembra intenzionato a non mettere da parte questa chance anche se il discorso è tutt'altro che scontato. Il sindaco Lucio Greco sembra non considerare prioritaria la riorganizzazione della sua giunta e al momento si è tenuto piuttosto distante in attesa di capire se ci saranno proposte concrete. Negli ultimi giorni i forzisti sono finiti in mezzo al trambusto della polemica sulla management di ASP con le invettive partite dal deputato regionale Michele Mancuso e dall'assessore Nadia Agnoffo, uno scontro a distanza che praticamente ha messo in secondo piano ogni altro aspetto. Il sindaco Lucio Greco anche in questo caso ha preferito usare toni distensivi, anzi ringraziando l'assessore regionale Ruggero Razza, a sua volta destinatario degli strali forzisti, ritenuto vicino alle esigenze della città in questa fase di emergenza sanitaria. Quella sua aspe sulla gestione portata avanti dalla management dell'azienda sanitaria potrebbe essere una tappa forse significativa nei rapporti tra gli azzurri e il sindaco Lucio Greco. Il rapporto politico non sembra a rischio ma certamente va valutato con attenzione. Sull'eventuale nomine in giunta Greco ha spiegato che l'ultima parola aspetta a lui e il si arriverà solo a certe condizioni. Fare previsioni è tutt'altro che semplice. I forzisti anzitutto dovranno trovare la sintesi al loro interno e toccherà anche al coordinatore cittadino Vincenzo Pepe, evitare crisi che al momento vengono escluse. Chiaramente l'eventuale nome che verrà fatto dal gruppo cittadino dovrà anche avere l'ultima benedizione politica del deputato Ars Michele Mancuso che con il sindaco Lucio Greco continua ad avere un filo diretto. Una riunione, non si sa bene se decisiva o meno, è stata posticipata domani. Pepe e Mancuso avrebbero già dovuto incontrare l'avvocato greco ma impegni istituzionali e non hanno reso vano ogni tentativo. Più in generale sulla giunta ci sono valutazioni in corso. Il sindaco fino ad ora non ha mai manifestato dissenso rispetto all'operato dei suoi assessori e rapporti interni appaiono piuttosto solidi. Forza Italia fin dall'inizio non ha nascosto di ambira ad un secondo assessore ma altri alleati attendono. Nei prossimi giorni inoltre pare che verrà annunciata la Costituzione in un nuovo movimento tra gli ispiratori c'è uno degli assessori della squadra di Greco. Con la presenza consistente di gruppi politici che non fanno parte di strutture di partito è inevitabile che mosse e contromosse possano susseguirsi. Greco ad inizio settimana ha ricevuto la visita del viceministro Teresa Bellanova e del senatore Davide Faraone, riferimenti di Italia Viva, altro partito che sostiene la giunta ma il cui futuro più immediato non sembra così definito. Intanto l'avvocato e la sua amministrazione comunale non rinunciano neanche al dialogo istituzionale per i progetti e i finanziamenti soprattutto con esponenti del Movimento 5 Stelle.